Buongiorno, a partire da oggi affronteremo su più aspetti una questione particolarmente dibattuta tra gli addetti ai lavori, l'edilizia verticale svolta sul fune. Se da una parte, diciamo quella della committenza, rilevano ragioni di presunta economicità per queste lavorazioni, dall'altra parte, diciamo quella dei tecnici, persiste il timore che questa specificità li possa poi esporre a severi provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza. A leggere le norme, queste preoccupazioni dei direttori lavori o dei CSE non sono del tutto infondate, in quanto praticamente l'intera macchina prevenzionistica è incardinata, fatte salve le misure organizzative, sulla preminenza dei dispositivi di protezione collettiva rispetto ai DPI, cioè i dispositivi di protezione individuale. Per capirci, per lavorazioni verticali, prediligere sempre il ponteggio o al limite una PLE rispetto a un sistema di aggancio, fune, imbracatura. E allora diciamo che la discussione è conclusa? Non direi. È per un motivo altrettanto valido. La stessa norma cardine a cui facciamo riferimento per i lavori in quota, e cioè l'articolo 111 del testo unico, ad un certo punto fa riferimento abbastanza esplicito a quello che è invece il vero baricentro della prevenzione infortuni, e cioè la valutazione del rischio. La norma in sostanza non ci dà vincoli così rigidi come può apparire da letture superficiali, ma fornisce un indirizzo preciso. Fai un'attenta e precisa valutazione del rischio e da lì scegli cos'è più opportuno utilizzare nel tuo caso specifico. Per i nostalgici del decreto legislativo 626 basti ricordare la formula classica del rischio, magnitudo, e cioè gravità del danno che si può verificare, per probabilità. Ecco, dietro il concetto di probabilità c'è un universo intero, fatto di tempi di esposizione, di numero di persone esposte, delle condizioni atmosferiche, della durata dell'intervento, della morfologia del sito, ma, se ci pensiamo bene, anche dell'addestramento del personale, della sua formazione, della sua esperienza e delle attrezzature che si utilizzano. Dunque, il rispetto rigido della norma a volte può essere un'arma a doppio taglio, perché, tanto per essere pratici, l'uso di un ponteggio è certamente quasi più sicuro, ma non è detto che lo sia il suo allestimento e il suo disallestimento. Allora, ciò che manca oggi è il coraggio o la capacità di fare bene la valutazione del rischio, perché da questa, invece, potrebbe anche venire fuori che un determinato lavoro su fune è meno pericoloso di uno svolto su un ponteggio. Badate, all'inizio di questo intervento ho accennato ad una presunta economicità del lavoro su fune. Ebbene, questo non può e non deve essere vero, perché committenti e tecnici devono comunque verificare di avere davanti ditte qualificate professionalmente, che lavorino con il sistema a doppia fune e che abbiano organizzato la fase di emergenza in quota meglio di chiunque altro. Su questi argomenti più tecnicistici dedicheremo altre piccole pillole di trasmissione. Grazie per l'attenzione e a presto.